Umani, preparatevi! Sì, è inutile che preghiate e tremate, tremate, non perché le streghe sono tornate, ma perché ben presto le porte dell'inferno saranno aperte! Quindi occhio, che non passerà nessun dio, neanche d'ora fermarsi stavolta, quindi siate buoni, altrimenti come ci divertiremo noi! Alla fine, sì che poi se il mare potrà, non fare cadere, ma alla fine i Krapus torneranno!